I social network sono il più grande mezzo di comunicazione esistente, ma come dice l'uomo ragno, da un grande potere deriva una grandissima responsabilità. Quindi utilizzate social network, utilizzate la rete, ma fatelo con una testa. Mi raccomando, non postate tutto quello che riguarda la vostra vita. Tenetevi le cose personali per voi e soprattutto voi genitori, io sono padre di quattro figli, state molto attenti a come i vostri figli usano internet. Sì, internet è bello, si possono trovare tante cose interessanti, ma purtroppo c'è un lato oscuro, esattamente come nel mondo normale, che è molto molto pericoloso. Quindi utilizzate questa macchina iper performante, sviluppate nuove idee, sviluppate nuovi lavori, sviluppate quello che vi pare, ma fatelo con attenzione. Se volete sapere tutte le notizie possibili e immaginabili su come utilizzare internet, seguitemi, mi raccomando, i consigli della Polizia di Stato e soprattutto questa campagna, la leggete qua? Una vita da social, yes!